Sesta parte del decimo capitolo della storia e risveglio dell'oscurità di Tekken 8. Stanno continuando a litigare Paul e Love, ma vediamo che cosa farà il nostro orso Kuma. Mi sa che Kuma si sacrifica, un enorme missile l'ha colpito in pieno. E ora è morto. Non si rialza più Kuma. Kuma ha salvato Paul. Quello è Sergei Dragunov. Sta... C'è anche Shaheen. Ora vediamo che cosa fanno King e Steve. Wrestler e Pugile. Forza andiamo, proseguiamo, procediamo senza perdere altro tempo. Vabbè vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, il video è finito.